Finalmente l'Interlaghi, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia. Da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre, le barche a vela tornano a sfidarsi nel Golfo di Lecco. Tra i regatanti sarà in gara, nella classe RS21, la leggenda della vela Thor Ben Grail, il mago del vento. Brasiliano sarà protagonista anche di un incontro aperto agli appassionati, giovedì 28 ottobre alle 18.30 in sala D'Onticozzi a Lecco. A organizzare la manifestazione è giunta alla sua 47esima edizione, la società Canottieri Lecco. Una grande manifestazione, la svolgiamo da oltre 40 anni per l'esattezza, come avete visto l'abbiamo chiamata 46-47. Probabilmente quelli di Tokyo 2021 hanno copiato da noi, quasi certamente. È molto importante, velicamente parlando, ma non bisogna mai sottovalutare anche il risvolto socio-economico che ha il territorio. Quando in acqua ci sono decine e decine di barche che con i loro equipaggi e con gli amici a terra, vuol dire che per un weekend, nella fattispecie anche un weekend abbastanza lungo, c'è qualche centinaio di persone in più che circola per Lecco. All'Interlaghi di quest'anno ci saranno circa 40 barche suddivise in quattro classi. Diciamo che la star di questa regata sarà Torben Grael, che è un velista brasiliano che ha vinto qualcosa come 5 medaglie olimpiche e poi molte altre regate oceaniche ed ha fatto parte del team di Luna Rossa nel 2000 quando vinse la Louis Vuitton Cup ad Auckland. Il giorno 28 i vecchiesi potranno vederlo e sentirlo parlare perché oltre che sia un grande velista è anche un grande uomo sostenendo con il suo progetto i bambini di strada brasiliani avviandoli allo sport. Sono tre giorni di regate, si parte sabato mattina con una supercoppa chiamata così una regata liberatoria da questo brutto periodo che ci lasciamo alle spalle e poi il pomeriggio si inizia con l'Interlaghi vero e proprio e si regatterà quindi sabato pomeriggio, domenica tutto il giorno e lunedì mattinata.